Io dire il vero mi sono iscritto a parlare perché finalmente mi sento sereno, tranquillo rispetto a quattro anni fa e voglio ringraziare per questo pubblicamente Maurizio che ha individuato, ci ha aiutato a superare quelle situazioni di difficoltà nelle quali questa Camera del Lavoro era precipitata. L'individuazione di Christian è stata un'ottima idea e secondo me la sua relazione e la sua guida è una cosa che ci ha fatto bene ma soprattutto io credo che qui non è stato solo una persona, c'è stata la concorrenza di tante persone in particolare voglio ringraziare tutti i funzionari, i delegati che in questi quattro anni hanno aiutato a superare quella frattura che abbiamo lasciato dietro alle spalle. Oggi questo congresso lo vedo tranquillo, sereno, motivato, in grado di affrontare le grandi sfide che noi abbiamo di fronte e per questo io ne sono molto molto contento. Abbiamo passato, ho detto prima, delle situazioni veramente pesanti, abbiamo passato il Covid, abbiamo avuto tante questioni su cui dovere concentrare il nostro impegno. Io voglio solo dire due o tre cosine molto leggere, cioè non leggere, adesso è un eufemismo ma è lo stesso. Io credo che nei prossimi mesi dobbiamo lavorare di più a partire da una grande lotta, è una grande battaglia contro l'evasione fiscale perché il Covid ha messo alla luce quelle fragilità che noi abbiamo nel nostro mondo sanitario e sociale. E guardate, ve lo dico da un impegno che noi abbiamo nel volontariato, non solo io ma tanti altri compagni, dove stiamo vedendo, Cristian ne ha parlato nella sua parte finale, in particolare sulla questione delle fragilità dei pensionati, delle persone che sono sole. Sono in grande aumento le persone che vivono in casa sole e che hanno bisogno di compagnia. Aumentano le richieste di telefono amico, aumentano le richieste di momenti, diciamo, di socialità, aumentano le richieste di essere accompagnati alle visite specialistiche mediche alle quali noi tutti insieme stiamo cercando faticosamente, diciamo, di dare risposte. Però la cosa che a me interessa sottolineare è che se non riusciamo a fare una battaglia seria contro l'evasione fiscale e se non riusciamo a ridare fiato anche di soldi, di risorse al mondo della sanità, ma non solo al mondo della sanità, anche al mondo del sociale. Guardate, non c'è solo il problema delle persone anziane di cui abbiamo già parlato, che ha già parlato bene anche Cristian, quindi io non ho bisogno di insistere su questa questione. Ma noi dal nostro punto di vista vediamo anche un aumento pericoloso e preoccupante di fragilità nel mondo giovanile. Ci sono tanti ragazzi che fanno fatica a trovare una loro collocazione nella comunità e nella socialità, cioè nel loro modo di svolgere le proprie attività. Abbiamo parlato prima della questione dell'alternanza scuola-lavoro. Fa male quello che viene individuato, ma fa male anche di più il fatto di sapere che sempre di più, e qui è un problema che dovremmo tentare di affrontare, perché sempre di più ci viene chiesto al mondo del volontariato di rendersi disponibili su questa questione dell'alternanza scuola-lavoro, perché nelle aziende non c'è risposta. Allora qua non c'è solo brutti e cattivi, gli imprenditori, eccetera, eccetera. Bisogna che lo affrontiamo dal punto di vista legislativo. Bisogna che troviamo il modo perché i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri ragazzi possano entrare nel mondo del lavoro senza rischiare la pelle, perché questo è, ecco, e qui è una vergogna che l'Inai non risponda, è una cosa talmente palese che bisognerebbe che tutti ci ribellassimo di fronte a questa situazione. Ma non solo questa questione, ma bisogna trovare il giusto equilibrio perché seguire dei ragazzi che si apprestano a imparare un lavoro ci vogliono delle risorse umane, perché noi vediamo, ci è stato chiesto e lo stiamo facendo, quello di accompagnare i ragazzi nell'alternanza scuola-lavoro. Ma dobbiamo essere consapevoli che non è così semplice e quindi io spezzo una lanza a favore anche delle imprese. Se non c'è una legislazione che dà sostegno a questo impegno, secondo me non andiamo lontano. Rischieremo nei prossimi anni di avere sempre meno, diciamo, lavoratori che hanno imparato un mestiere in modo sano e corretto e sempre di più delle persone fragili in difficoltà. Perché noi vediamo dal nostro punto di vista che arrivano delle persone che ci vengono a chiedere di fare volontariato, ma quando un ragazzo ti viene a chiedere di fare volontariato si capisce immediatamente che quel ragazzo ha delle grosse difficoltà, allora non può essere che il volontariato debba rispondere a questi problemi. Noi ce la metteremo tutti, continueremo, le associazioni di volontariato, non solo l'Auser, tanto per essere chiari e precisi, però se non risolviamo questo problema, se non facciamo una scelta strutturale di attenzione rispetto al mondo, anche al mondo giovanile, io credo che avremo delle grosse difficoltà nel nostro futuro. Poi noi continuiamo, certo, apprezzo il passaggio sulla questione della legalità del segretario. Io vi voglio, ripeto, di nuovo ringraziare, vi ringrazio anche a nome dell'Auser, questo me l'ha chiesto di farlo la mia Presidente, il contributo, sappiate che il contributo del 5 per 1000 che ci date ogni anno in questa terra, la vostra generosità è enorme, è enorme, non va sprecata, perché lo usiamo tutta, fino in fondo, per rafforzare le attività nostre, dal telefono amico, ai momenti di socializzazione, agli accompagnamenti delle persone che altrimenti non potrebbero riuscire ad andare a fare le visite mediche, perché con le difficoltà che abbiamo sappiamo che cosa succede. In più, noi, nel periodo del lockdown, abbiamo fatto tantissime cose, dai checkpoint nelle strutture sanitarie, dove la nostra presenza ha aiutato le persone più fragili e più anziane ad accedere ai servizi, a tutte le attività di aiuto e di supporto. Continueremo a farlo, abbiamo bisogno anche di una collaborazione dei lavoratori e delle lavoratrici. Grazie e buon lavoro per il nostro congresso. Grazie Sandro.